la dolcezza è bellissima buongiorno ben ritrovati sul canale oggi vi voglio parlare di dolcezza ve ne parlo perché mi sto come dire aggiornando sto seguendo un corso di approfondimento in ambito di galateo di buone maniere e mi piace perché ritrovo dei concetti che mi sono sempre stati a cuore e che apparentemente non tutti riescono a collegare con l'argomentazione delle buone maniere e invece sono alla base di esse ma andiamo con ordine a me piace molto uno psicologo Antonino Tamburello magari qualcuno di voi già lo conosce è una persona veramente squisita di un'intelligenza emotiva pazzesca l'altro giorno mi sono imbattuta in uno dei suoi video in uno in una delle sue perle di saggezza in cui parlava di dolcezza il professore Tamburello dice che la dolcezza è nel cuore nei gesti nelle parole ed è bellissima è incantevole solitamente ci si pone la domanda ma serve è utile ma noi così la abbassiamo in questa caratteristica cioè la priviamo del suo valore immenso della sua bellezza perché non è utile è bellissima cioè capite la differenza o meglio non che non sia utile ma non è solo utile cioè non limitiamola a quello è bellissima è incantevole è affascinante e la dolcezza conquista le persone e da dove viene viene da dentro cioè noi ce l'abbiamo dentro la dolcezza e io mi sento proprio di dire che ce l'abbiamo tutti la dolcezza solo che qualcuno è più propenso a tirarla fuori qualcun altro meno ma perché perché per essere dolci e il professore lo dice bisogna essere tranquilli cioè la dolcezza nasce dalla tranquillità lui dice dal non doversi difendere e dal non essere in allarme perché effettivamente le persone dolci nel momento in cui trasmettono dolcezza sono anche più vulnerabili e quindi probabilmente è per questo che le persone rinunciano alla dolcezza cioè al darla perché poi siamo tutti molto egoisti e vogliosi di dolcezza quando è ora di darla e le cose diventano un po più difficili cosa c'entra con il galateo col fatto che io stia facendo questo corso di di perfezionamento c'entra perché anche in questo corso viene spiegato come le buone maniere si fondano su una bontà d'animo su una bontà negli intenti quindi anche in questo frangente ve lo devo sottolineare la regola non serve a nulla se la lasciamo fino a se stessa serve la bontà di intenti e sarebbe bello che le persone non rinunciassero a donare la propria dolcezza che poi si può fare lo stesso discorso con la gentilezza perché sono molto simili come concetti è solo che appunto ci si trova ad essere vulnerabili e si ha paura di rimanere feriti subentrano le regole del galateo un meglio diciamola meglio un po più precisamente subentra la questione del rispetto verso se stessi e verso gli altri più verso se stessi probabilmente in questa circostanza e cioè cerchiamo di non diminuire la nostra gentilezza cerchiamo di condividere con gli altri la dolcezza cercando di impostare dei limiti per far sì che il prossimo non ci ferisca e questi limiti riusciamo a impostarli se facciamo nostre le regole delle buone maniere nel galateo si parla di cortesia ma bisogna vedere anche questa parola da dove deriva si arriva a parlare di corte di cortigiani e quindi ad analizzare la cortesia sì come una cosa positiva ma da saper gestire perché altrimenti diventa come dire subordinazione ed è il rischio che purtroppo tante persone me compresa corrono perché non bisogna trasformare la dolcezza e la gentilezza in un essere sottomessi servizievoli no perché non è questo lo scopo e c'è proprio da fare chiarezza intorno a quest'idea perché altrimenti si cade sempre nel solito errore e cioè nel solito rischio e cioè sei gentile e allora la gente ti tratta male perché scambia la bontà con debolezza non deve essere così facile a dirsi un po' meno a farsi ma io sono qui per aiutarvi o meglio per migliorare insieme a voi perché a me non viene assolutamente facile il come dire l'impostare la dolcezza e la gentilezza senza che questa venga fraintesa ma perché in generale non è facile spero siate riuscite ad arrivare a fare un ragionamento vostro che vi porta a capire come guardate chi è capace di dolcezza è una persona molto forte quindi vedete come si ribalta la situazione cioè da gentile uguale debole a gentile e dolce uguale forte proprio perché chi può permettersi la gentilezza e la dolcezza è perché è una persona forte io con voi voglio riuscire a diventare questa persona